In 30 da Pizzinno, in comune per parlare della carenza idrica che sta attanagliando la frazione montana di Tortora dal maggio scorso e quanto avvenuto ieri pomeriggio al municipio, da quanto spiegatoci dal consigliere di minoranza di progetto di sviluppo Tony Iorio che ha preso parte a questo blitz pacifico organizzato spontaneamente dai residenti delle zone montane esasperati dalla situazione L'obiettivo era quello di incontrare il sindaco Pasquale Lamboglia Il primo cittadino, ha detto Iorio, ha invece lasciato la parola all'ingegner Domenico Fontana il quale ha ribadito che c'è uno studio di fattibilità per captare nuove falde per riuscire a risolvere il problema della carenza idrica nelle zone montane L'incarico è già stato affidato e giovedì prossimo sarà fissata la data di un nuovo incontro al quale sarà presente anche l'ingegnere che si sta occupando dello studio Insomma, la situazione è la seguente In alcuni punti delle zone montane l'acqua è sempre più rara L'ultima ordinanza sindacale del sindaco Lamboglia con la quale si è deciso di sospendere l'erogazione dell'acqua dalle ore 14 alle ore 18 per il periodo che va dal 26 ottobre fino al 31 dicembre per gli immobili residenti sotto i 545 metri di altitudine ha provocato non poche polemiche da parte dei residenti di Pizzinno visto che si va incontro all'inverno e le esigenze aumentano La decisione dei cittadini di recarsi in comune ci è stato spiegato scaturisce proprio dall'esasperazione per una situazione che sembra non trovare sbocco nonostante le zone montane siano ricche di acqua Fontana, ha detto Iovio, è convinto che le perdite alla rete idrica, qualora ci fossero non possono essere tali da creare una situazione di emergenza come quella che si sta vivendo Il problema è quindi quello di trovare nuovi approvvigionamenti Insomma, una soluzione si sta cercando Per il consigliere di minoranza Iovio però è anche vero che ieri i cittadini avrebbero voluto avere un confronto con il sindaco Lamboglia invece si è preferito lasciare la parola ai tecnici Purtroppo questo atteggiamento di chiusura verso la popolazione da parte dell'amministrazione non fa assolutamente bene Grazie 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 Grazie